Dopo una pausa di circa una settimana, ritornano le sfide settimanali dei Weekly Challenge su Gran Turismo 7. Qualche giorno fa ho portato un video che spiegava appunto la situazione con la sparizione, molti di voi sono preoccupati, che fine hanno fatto, che fine hanno fatto il Weekly Challenge, ragazzi sono tornate, era solo una pausa perché il team di sviluppo stava lavorando a qualcosa, io ho sperato fosse qualcosa di più promettente rispetto alla sola introduzione di queste sfide e sembra che siano tornate solo queste sfide. Prima di rivederle nel dettaglio e saltare in pista, come sempre vi chiedo un secondo del vostro tempo perché è fondamentale il vostro aiuto. Vi ringrazio già anticipatamente, se volete iscrivervi al canale, ovviamente lasciate un mi piace a questo video. Grazie. Le sfide si trovano sotto circuiti mondiali, questo lo sappiamo già da diverso tempo. Selezionandoli poi in alto a destra, parzialmente nascosto la webcam, cioè Weekly Challenges, restano 6 giorni in questo caso, selezionate e qua le vedete tutte. La fine di questo ovviamente è giovedì prossimo perché adesso al venerdì verranno rifresciate. Cosa c'è? Se ne completate almeno una vi arriva un biglietto da 100.000 crediti, oltre ai premi che vi portano queste sfide, quindi col completamento di una sfida 100.000. Se ne fate 3, 250 in totale. Se le fate tutte 5 avrete 250 più un'auto in omaggio con un biglietto della roulette a 6 stelle. Completando tutti i 5 eventi ho fatto un calcolo, più o meno sono 460-450.000 crediti circa. Seconda settimana di marzo, come vedete in alto, più o meno anche tutte le altre sfide si sottravano in questa maniera. C'erano 4 sfide prese da ciò che poi trovate all'interno dei circuiti mondiali, in maniera singola separata nelle location. Qua vengono raggruppate come ovviamente pacchetto di sfide. Questa cosa è una roba che mi piace tantissimo perché appunto ci dà modo di... Molte di queste per dire non le ho fatte perché le Clubman Cup onestamente le ho corse poche volte, mi interessavano poco. È arrivata la TTS nuova, la vedete anche in copertina, volendo. Si può prendere, si può andare a gareggiare questo evento. La GR1 Prototype Series l'ho portata in un evento, in un video particolare con un evento dedicato. Poi c'è qui a Santa Croce con, in questo caso volendo la Porsche, ma poi si possono cambiare le auto in base alle restrizioni dell'evento. Ferrari Circuit Challenge, ovviamente con una sfida, in questo caso a Barcellona, circuito dei Catalunia con le Ferrari. E quello speciale in aggiunta a questi che restano sempre, questo probabilmente verrà tolto ma ve lo potete creare con le sfide customizzate, personalizzate. Questo è per celebrare la Renault R4 uscita da poco, questo è un monomarca. Che si fa? È un evento online a tempo limitato. Io lo seleziono, lo vedete qui, qua ci sono le altre sfide presenti ad Alsazia ovviamente. Evento online a tempo limitato, selezioniamolo, dobbiamo cambiare auto perché l'unica accettata è questa. Non ho assolutamente fatto alcun tipo di setup, quindi faccio un setup al volo, ci buttiamo in pista, speriamo di magari vinciamo perché poi non c'è un limite di pipì, quindi è un po' particolare sta cosa. Faccio la gara, spero che vada bene, poi alla fine vedremo il setup di questa ovviamente e anche poi tutte le altre sfide le porterò con dei video dedicati per anche magari far vedere a qualcuno di voi se vuole fare dei setup particolari. Ve li mostrerò ovviamente nei video che arriveranno. Faccio il setup veloce e ci vediamo in pista. Ragazzi ci siamo da 150 pp, l'auto di base che era, siamo arrivati oltre 400, non c'è un limite di pp. Questo personalmente lo trovo un problema qui di configurazione dell'evento perché adesso c'è la possibilità che la nostra auto sia molto più performante delle altre nonostante vedete la fatica che stiamo facendo a prendere questa salita. Ho evitato di modificare tutta la parte di potenziamento sul motore pur avendo due R4, siamo belli fermi, perché a quel punto sarebbe stata veramente una sfida impari. Già così dopo due curve siamo praticamente primi, ho semplicemente preso nuove componenti da corsa e l'auto come vedete di per sé è una scatoletta, una roba che su Gran Turismo ha senso e anche a differenza di quello che molti hanno detto perché GT l'ho riprenduto più volte, non è soltanto auto GT3 assolutamente, non è soltanto auto GT3, GT4, Gruppo 1, G3, G4, qua non c'è il T come classificazione della categoria delle auto. Però è anche particolare vedere delle auto perché in tutta la storia del gioco, in tutta la storia della serie ci sono state sempre auto un po' fuori dagli standard, è il bello per me anche di Gran Turismo 7. In questo caso con la R4 ci stava, mi piacerebbe fosse un po' un mix, ci fosse un mix maggiore di, siamo larghi qua, di auto appunto storiche, va bene, qualcosa di più moderno, piacerebbe ovviamente a tutti, mancano i tracciati ma quello e un altro discorso ne abbiamo già parlato. Delle 5 sfide che ci sono, ovviamente, delle 4 oltre questa, qual è quella che vi interessa maggiormente per ora, quella che vorreste fare, magari mi metto a fare anche un video a riguardo perché alla fine questa tipologia di sfide settimanali per me ha senso, giustamente come molti hanno sottolineato e l'ho raccontato anche io più volte, è uno stimolo ad andare a fare eventi che magari slegate tra di loro che non faremmo mai. Quindi da quel punto di vista è apprezzabile, secondo me, il tentativo. Questa, come vedete, è un po' così. Se avessimo mantenuto i 150pp delle altre, ragazzi, avete provato l'R4 di base? Siamo a 120 in discesa così. Avete visto gli altri come facevano fatica a salire? 150 in discesa. Primo giro chiuso in pochissimo, dai, semplicemente 3 minuti. In 6 minuti fate questa sfida e oltre a prendere i... non ho visto quanti... forse 60.000 accrediti? Ah, mi sono distratto. Uh, sì. Forse... poi ovviamente mi distragho e vado dritto. Oltre 60.000 accrediti... seconda spinta. Della sfida... guardate qua. È normale. Si può ovviamente pompare molto di più il motore e alleggerirla con tutta la riduzione del peso. Cosa che fate voi, tranquillamente. Fate tutte le prove che volete. Per questa sfida mi sembrava... è già un overkill in questo caso. Non c'è... praticamente competizione. Le altre sono a 15 secondi nonostante io stia passeggiando. 16 adesso, vedete, sempre più. Magari arriviamo a 25 alla fine del giro. Se vi va di pomparla un po' di più, di potenziarla, ha senso, ma... mancherebbero poi di nuovo magari le sfide da... dove portarla in giro. Comunque, oltre i 60.000 credo di vittoria per l'evento. Ci saranno i 100.000 di vittoria grazie al fatto che almeno un evento di questa serie di sfide settimanali è stato completato. che quindi, se volete comprare... Ma no, mi pare della sola. Una... Un sovrasterzo lì all'improvviso. Se volete appunto... Crediti per comprare auto, per potenziarne altre, per svuoppare il motore, per fare altre cose... e non avete tanto tempo. Qui in sei minuti, circa. Provate l'auto. La vedete... Così. Ce l'ho fatta a fare anche una curva senza guardare. Non ho frenato per nulla, quindi... 25 secondi di vantaggio forse... non riesco a tenerli. Un giocattolino quest'auto, ovviamente, quindi... Bella, bella, una propria collezione. Fate qualche garetta, ma ovviamente di competitivo c'è poco... poco da fare su... per portarle in pista a fare qualcosa. Si possono fare degli eventi in gruppo, divertenti, quello sì, ma... oltre a quello... non c'è molto. Però in sei minuti vi fate 160.000 crediti alla fine, perché... prendete i crediti dell'evento, appunto, e... del ticket. Poi se ne fate altri due, ve ne arrivano 150. Quello è un po' più divertente, a quel punto. Volete provare l'R4? La provate così, alla fine il setup. Ho visto, ho fatto mezzo giro... anche con l'altra che ho preparato. L'ho lasciato standard, tranne per la parte di... potenziamenti che andiamo a vedere fra un secondo. Ho frenato veramente troppo presto, ma... mi piace tenerla un po' così in tiro. Larghi, 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 larghi. Uh, come ha sterzato poi di brutto lui. Facciamo questo piccolo testacoda, spaccando tutto, sulla linea del traguardo. In questo evento che, ragazzi, lascia un po' onestamente... il tempo che trova. 6 minuti e qualcosa. Prima evento completato. Sì, 6 minuti e 20. Niente di che. 3 minuti a giro. Vedete, 60.000 crediti. Questi ci sono, più di 100.000 di biglietto. 160.000 crediti a questo punto in 6 minuti, se vi va. Poi fate altre due gare, vi prendete gli altri 150. Sulle impostazioni auto, ragazzi, veramente niente di... niente di che ho messo le sport morbide, io non volevo andare a mettere le gomme da corsa, mi sembrava veramente troppo. Sospensioni ho messo le personalizzabili, ma non le ho toccate alla fine, quindi questo è così come esce, si può andare ovviamente a migliorare tutto. Qua è frizione volano da corsa, tanto per provare. Non ho elaborato nulla, tutte le parti che si potrebbero mettere da corsa, le ho messe, e il turbo compressore a regime elevati. Ho messo il completino di bordo, appunto sono partiti da 152-153ppi e siamo saliti di 250, sì, quindi più del doppio, 80 cavalli scarsi. Questa è... Ma torniamo un attimo alle sfide settimanali, perché appunto, riguardandole, sicuramente rifarò questa, voglio riprovarla, la GR1 Prototype Series ad Eitona, sono 10 giri, questa è bella, questa è anche difficile, almeno prendo un po' di... e diverto un po' di più. Quella fatta adesso, avete visto anche qua, c'è una palla, però c'è e si fa. Questa Santa Croce, non avevo mai... Ah sì, l'ho fatto, è arrivato secondo, potrei provare pure quella, poi perché va indietro così, volevo tornare al menù delle weekly challenges e poi farò ovviamente questa con la TTS per un'uscita e anche con la Ferrari, vediamo quale prendere, se avete qual consiglio per queste sfide, fatemelo sapere, come sempre, vi ringrazio per il tuo supporto che mi date e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!